Ciao ragazzi! Ciao amici dei Drivers Love to Play e bentornati sul nostro canale! Io sono Ardarkar e io sono Kitana Bentornati ragazzuoli! Ve lo avevamo promesso su un post di Instagram, infatti ve l'abbiamo fotografato e vi abbiamo detto di seguirci perché ragazzi eccoci qua È arrivata finalmente un gioca guarda! Esatto! Una piccolissima console Game & Watch versione Super Mario in occasione ovviamente del suo 35esimo anniversario della serie E ragazzi oggi la unboxiamo ufficialmente con voi, io mi sono già portato avanti l'ho aperta, ecco qui e durante lo scartaggio vedrete ovviamente delle riprese più da vicino Quindi vi faremo vedere bene cosa include la confezione ragazzi Speriamo che non stiate già tutti incollati su Xbox Serie X e PlayStation 5 Vabbè ragazzi a parte che PS5 deve ancora arrivare però cominciamo subito ragazzi Sì vi diciamo che questo è più un oggetto da collezione alla fine Anche da colazione Anche da colazione perché è talmente piccola che potete mangiarla E all'interno di questa piccola console troverete la versione ovviamente quella classica, quella che conosciamo già Di Super Mario Bros Poi ci sarà anche Super Mario The Lost Levels Poi c'è la versione di Ball con la facciuzza di Mario che vedete in sovraimpressione E poi è un orologio digitale Sì esatto e potete scoprire da voi le diverse animazioni che variano da un'ora all'altra Io direi di andarla ad aprire questo preciso momento Vi ricordo che vedrete immagini nel frattempo molto più dettagliate da vicino Andiamo a sganciarla dalla scatola quindi Facendo molta attenzione perché qua ogni pezzo è... Ah ok partiamo proprio dal cavettino Il cavettino USB praticamente Ecco qua e andiamo a sfilare la carta Che ovviamente include la console Abbiamo il solito manuale di istruzioni Qualora hanno riuscito a capire come funziona Ma mi sembra abbastanza scontato insomma l'utilizzo E all'interno di cartone bianco Molto ben protetta anche da una plastica Abbastanza carina da vedere Eccola qua Ammazza ragazzi è veramente molto piccola la console È incredibilmente piccina Mettiamo da parte il cavo USB Che dice Kitana? Sembra veramente molto piccola Niente male insomma per le due manine è perfetta Per chi ha le mani un po' grosse invece potrebbe risultare Diciamo forse leggermente scomoda anche per giocarci Non saprei insomma È molto carina È molto piccina È molto lucida vedo Quindi c'è il rischio Editate guarda Power up proprio Editate Praticamente sì C'è il rischio di zozzarla molto facilmente Comunque ecco Vediamo insomma La pulsantina di comando più I tasti classici A e B Al lato destro c'è Game time e pause set Sì Gli altri tasti utili Involvamente anche per il menu di pausa Lato ovviamente c'è l'accensione E l'alimentazione Vediamo qui in anteprima Press time button Credo che tu debba settare I vari scenari di gioco di Mario Come potete vedere I vari livelli Più che altro Prima che vi esploda fra le mani Perché Vi considerano il suono Sì sì abbiamo modificato Ok l'orario È quello americano Da 12 ore Quindi a posto E niente ragazzi Poi ovviamente Potete giocarci come vi ho già detto Anche a Mario The Lost Levels O Mario Classico O addirittura Bull Con il facciozzo sempre Del nostro idraulico baffuto Preferito ragazzi Ovviamente vi facciamo vedere Eventuali prove Sempre Avete visto insomma Quadro generale Ecco qui l'abbiamo unboxata Per voi Molto piccina Si tiene proprio sul palmo Di una mano Ragazzi fate molta attenzione Perché è abbastanza delicata Quindi E poi essendo un pezzo Da collezione Insomma dovrete avere Particolare cura Oh che carina Guarda è grassa Canto la tua mano Poi pochitana Hai visto che carina Cioè è praticamente perfetta Guarda Entra proprio precisa Proprio precisa Anzi forse oserei dire Che la tua manina È anche molto più piccina Bene ragazzi Avete visto In focus Insomma Che cosa offre Questa piccola console Ragazzi è un pezzo Da collezione Volevamo averla E l'abbiamo Acquistata Insomma Speriamo che l'unboxing Sia veloce Così Easy Sia stato di vostro gradimento Fateci sapere qua sotto Nei commenti Se l'avete acquistata Anche voi ragazzi Ci potete trovare Anche nelle nostre pagine Facebook e Instagram Esatto Qua sotto Nella descrizione Trovate i nostri link Utili ragazzi Vi aspettiamo E iscrivetevi ovviamente Se siete nuovi E volete aiutarci A far crescere Il canalozzo Oltre a dirvi Anche di recuperare Gli altri video Non possiamo far altro Che ringraziarvi Per averci visto Oggi E vi diamo appuntamento Alla prossima video Ciao ragazzi Ciao Alla prossima Ciao